Giulio Cesar intanto fuori dai pali, forse per qualche problema muscolare, forse per distrarre un po' Zlatan Ibrahimović, per lo svedese in questo campionato 9... Giulio Cesar adesso a innervosire, a cercare di farlo, Zlatan Ibrahimović, è un duello anche psicologico tra i due, mette il pallone sugli 11 metri, Giulio Cesar va a prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimović, il pareggio del Milan! 27 gol in campionato per Zlatan Ibrahimović, minuto 44, Inter 1-Milan 1, decimo gol su 10 tentativi dal dischetto per Zlatan Ibrahimović, cecchino implacabile, il Milan si riporta in partita. Il sorriso sarcastico di Giulio Cesar che aveva battezzato l'angolo giusto, aveva già parato tre rigori in questo campionato, il portiere brasiliano è Ibrahimović, dopo aver segnato.